Il sindaco sono partiti i lavori per ripristinare la sala mensa della scuola Vezzi? Assolutamente sì, qui grazie proprio alla nuova sede dei vigili appena inaugurata a Tavernelle noi abbiamo liberato qui a Calcinelle nella sede della delegazione comunale una serie di spazi che rendono più funzionali diversi servizi dall'ufficio protocollo del comune di Colli al Metauro dall'ufficio e gli spazi dedicati alla potes che così diventano ancora più funzionali rispetto a prima ma soprattutto ed era quella la cosa più sentita e che effettivamente mancava la sala mensa per la scuola elementare Vezzi, qui non c'era una sala mensa di conseguenza i bambini erano obbligati a mangiare sui banchi con ovviamente tutti i problemi annessi e connessi invece da quando aprirà la scuola tra pochi giorni qui a Calcinelle ci sarà una nuova classe ed è proprio qui dove siamo adesso, ancora più spaziose di prima e al posto della classe nella stanza dove c'era questa classe e dove c'era prima la sede della potes che saranno unite da un abbattimento di una parete che avverrà già da domani ci sarà una nuova sala mensa ampia, funzionale e finalmente un servizio migliore per tutte le attività legate alla scuola e al fatto che i bambini rimangano comunque a pranzo anche qui perché è una scuola a tempo pieno la Dezzi a tempo pieno la scuola 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 a tempo pieno la